Alle 10.39.14 ci sta la gara dei ragazzi, ragazzini, bambini e adolescenti, dove vinceranno sicuramente Chiara e Valentina. Ma sullo sfondo vediamo il nonno e lo zio delle ragazzine che sono in attesa delle loro pupille. In mezzo a questa biciannaia probabilmente c'è anche Valentina e Chiara, però non riusciamo a distinguerle. Facciamo una giornata ma non vediamo nessuno. Ed eccoci arrivati al pian terreno dove vediamo la Valentina e ora andiamo a cercare la Chiara. Ed eccole lì, che loro due insieme alle loro amichetti. Devi soltanto dirvi com'è che ti senti oggi? In piena forma? Come no? Guarda qui dentro. Vuoi dire che le tue amiche sono più brave? No. Ah, è lei la più brava, vero? E chi è la più brava, la Chiara? Nessuno. Nessuno? Siete tutti un po' guardi. Eccolo lì, vieni qua qui, vieni Chiara, vieni. Eccolo lì. Sentiamo tu, come va? Come ti senti tu oggi? In piena forma? Hai sciolinato gli sci? Eh? Non hai sciolinato gli sci? No, ma io non ho potuto toccarmi. Li hai frenati perché corri troppo, vero? No. Eh? Bene. Li hai lasciati stare. Li hai lasciati stare. Li hai lasciati stare. Come mai? Eh? Perché quando ti è dimenticato di metterci la chiolina. Eh, va bene, ma è andata talmente forte che tanto. Eh? Dove sai quanto forte? Mi raccomando, fate i paletti dritti, eh? Tutte, eh? Fate i paletti dritti. Sì, ma abbiamo appena fatto la pizza. Ah, l'avete fatta la pizza? L'avete provata? Com'è? Bella. Bella? Io? Solo? Solo che si va un po' piano. Eh, va bene, ma adesso se mai vengo... Con tutte le gare che ho fatto io, non ne ho vinta mai una. Non ne hai vinta mai una. Questa volta è la prima. Questa volta è la prima. Questa volta è la prima. Non ne ho vinta ne una, però non ti diverti mai. Allora oggi è la tua, mi raccomando, eh? E tu seconda? No, seconda o Chiara? Chi è che deve arrivare secondo oggi? Chiara. Chiara, seconda. Io te. Ma insomma, ora io vado a intervistare un po' le amiche di Chiara e Valentina perché voglio sapere con queste due bambine veramente come vanno. Allora, tu come dichiari? Chiara. Chiara, anche tu? Sì. Benissimo. Allora, dimmi, com'è che cammina Chiara e Valentina? Bene. Vanno molto bene? Sì, sì, sono veloci. Sono velocissime? E tu come ti senti con fronte loro? Male. Non dirlo, eh? Guarda che all'ultimo poi vengo a vedere e vi intervisto di nuovo, eh? No, no. Tu come ti chiami? Che sei nascosta? Andrea. Andrea? Eh, e come ti senti oggi? Male. Ma vi sentite tutti male? Ma di chi avete paura? Di questa spugnizietta qui? No. No? E tu? No, della gara. Come ti chiami? Brigitta. Vai bene tu oggi? Ah, è la tua amica? Allora oggi, Brigitta, chi ha che vincerà? Lei. Lei? Lei vincerà. E tu cosa dici? Non so. Come ti chiami? Davide. Davide, cosa pensi tu? Venga il migliore, via. Ok, d'accordo. Ma siete bravi tutti. Vingiotti, siete tutti vincitori. Ciao Chiara, io scappo eh, ci vediamo giù eh. Ciao, ciao Vale. Ciao Vale, ci vediamo giù eh. Non siete trepidanti? Mina, non ti vedo, dove sei? Dai, brava! Ecco la tacchiglia. Sì, è questa eh. Mola, mola Vale, dai. Dai, scossa. Vai, Vale, dai. Dai, vale, vai. Puoi andare, dai. 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 Dai, ragazzi. Dai, dice la Chiara su tu. Dai, vai, vai. Dai, vai, vai. Dai, vai, vai. Vai, riprenda un pochino. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Paolino, vai, 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 vai. Paolino. Vai, vai, vai. Ora seguiamo le interviste. Com'è andata secondo te? Benissimo. E chi ha vinto secondo te? Dalle due la Chiara. Dalle due la Chiara. E la nonna? La nonna. Nonna. No, girati di qua, vini. Ecco. Sì, va con la sovrapposizione. Non è fatta il troppo. Tutti la Chiara? Io ho visto questa volta. Tutti la Chiara? No, dai. Secondo voi? Chiara? Ha vinto solo la mia amica lei. Lei è venuta giù a bomba. Chi è la bomba? Io, io. Sei una bomba, sei. E sì, ma poi ti senti qua. Ora la pelletina quando sente quello che hai detto. E tu ti sei salvato ancora. Sono andate molto bene i due e due. Solo che la Chiara è andata un pelino più forte perché ci ha visto noi. Ecco. Poi è più bonitica. È più bonitica. Benissimo. Grazie. Ciao. Grazie a tutti.